buonasera buonasera datemi solo qualche secondo perché davvero ci ho provato in tutti i modi ma certo punto mi è venuto la biocco mi è venuto la biocco mi è venuto la biocco sono sono colpevole si vede anche da dalla faccia e sono colpevole però pazzesca partita noiosissima di una noia mostruosa auguriamoci che le partite poi non siano tutte su questa falsa riga altrimenti è tragica è tragica oddio allora allora la juventus è in finale e la partita benissimo cioè la partita è durata 15 20 minuti e i primi 20 minuti sono stati fatti benissimo dalla juve anzi io pensavo finisse in goleada visti i primi dieci minuti che il milan non prendeva la palla il milan nei primi dieci minuti non ha toccato un pallone 11 niente niente pressing alto impostata bene alla grandissima bento al corso tutti i palloni di bala in pressing ho detto qua finisce qua finisce in goleada qua finisce tranquillamente in goleada invece 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 no espulso rebic ma andiamo mandiamo in ordine andiamo in ordine rigore che ci sta ingenuamente ed impulso di impulso conti allarghi il braccio fa volume quelle rigore cristiano ronaldo non lo segna e già da lì puoi capire che una serata no di cristiano ronaldo peggiori in campo stasera cristiano ronaldo inguardabile inguardabile sotto ogni aspetto finte contro finte iper super sonic e rimane sempre la e poi stop sbagliati non ne ha azzeccata meno solo nel finale ha fatto una bella girata poi ha provato a fare come si chiama l'arabona ma la serata proprio proprio no di cristiano ronaldo e forse questa la racconto un po tutta sulla partita che è stata e vabbè cristiano ronaldo sbagliare gole rebic sulla praticamente stesso sul proseguo dell'azione sulla ribattuta e compagnia bella se non vado errato perché ormai mi so perso talmente se la cognizione e rebic fa una roba avete presente il logo della bundesliga andatevi a vedere il logo della bundesliga lo ha emulato praticamente proprio gamma testa fa una roba da 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 giugizzo che è taekwondo come come si chiama quelle robe di arti marziali fa una roba paurosa espulsione sacrosanta senza senza ma e finisce la partita finita la partita la juventus poi ha provato in qualche modo che tra l'altro ripeto ha avuto l'occasione all'inizio da grass costa il tiro ha avuto l'occasione sul rigore ha avuto l'occasione con se non sbaglio con matuidi poi finito poi veramente finita la partita anzi nel secondo tempo avevo un po trovato le contromisure il milan ha inserito le au lì davanti che mi è piaciuto le au mi è piaciuto a me è piaciuto e quasi quasi ha avuto pure niente non ha avuto niente neanche il milan ha avuto proprio niente però sai almeno c'è arrivata sulla tre quarti sulla tre quarti avversario almeno c'è arrivata il primo tempo popo zero e questa è stata partita stop stop non credo che ci sia ci sia altro da dire sembrava il trofeo vi ricordate il trofeo berlusconi vi ricordate il trofeo berlusconi cazzo trofeo berlusconi incredibile non so condizione fisica quello che vuoi non lo so non lo so può essere condizione fisica può essere tutto quello tutto quello che vuoi però ci credo relativamente perché poi se se parliamo della pandemia di tutte queste robe qua uno dei peggiori doveva essere di bala almeno da un punto di vista fisico di bala a me non è dispiaciuto perché ha appressato ha giocato ha fatto il suo quindi se paragono di bala che doveva essere il più acceccato tra virgolette agli altri se paragono agli altri non lo so quindi francamente non so che che aspettarmi ultima cosa la juventus ripeto ha partito è partita benissima è partita benissima nei primi 20 15 20 minuti ha fatto un'ottima partita nei primi 20 minuti ma poi non puoi rischiare di portare la gara per tutta per tutti i 90 minuti sulla 0 0 quella è una roba pazzesca perché poi se non succede che non succede perché non poteva mai succedere stasera perché milan già ultra decimato poi spulso rebic e poi un milan non poteva però metti che calcio d'angolo che ne so ti favo tu tu esci fuori dalla coppa italia cioè partita che con questa la dovevi chiudere questa la dovevi tranquillamente portare a casa va bene ragazzi è andata è andata così è stata una partita noiosa per me è molto molto noiosa mi auro veramente che non lo so giustamente sono tre mesi che non si gioca non è che non è che pretendevamo non è che pretendevo la luna assolutamente no io mi auro soltanto che non siano non siano queste non sia questo il ritmo di partita delle gare che ci aspettano perché perché diventa diventa pesante diventa un pochettino pesante fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate like cat e perché no iscrivetevi al canale o un grande abbraccio daneschi